Che cosa voleva? Chi? Che cosa voleva? So benissimo che era lei! Ha detto che anche per loro è molto dura e che vorrebbero conoscere Yassin. No! No! Ne abbiamo già parlato, non lo vedranno. Finora ne hai parlato solamente tu e l'hai deciso solo tu di non dirgli niente. Ma non è la tua vita, è la vita di Yassin! E presto o tardi lo verrà a sapere! Ma che succede? Verrà a sapere cosa? Verrà a sapere cosa?